Ingredienti Dosi per 4 persone 500 grammi di piedini di maiale Aceto e sale Preparazione Piatto squisito Ma non certo per stomaci delicati Bruciacchiare i piedini di maiale in modo da eliminare tutti i peletti Lavarli e metterli a lessare in acqua salata con aggiunta di aceto Quando cotti dividerli in due o quattro parti ed accomodarli su di un piatto Compressi da un peso Il piatto è pronto Buon appetito Grazie a tutti Grazie a tutti